Giuseppe D'Acunzi ha rifiutato la proposta giunta dalla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese di giungere ai vertici della municipalizzata Alba. D'Acunzi ha ribadito di avere altri impegni professionali, anche se nei mesi scorsi aveva partecipato alla selezione per guidare la società di via Rosa Iemma, indetta dalla prima cittadina, che poi scelse Aniello Carrafiello di missionario da due settimane. Evidentemente gli impegni di D'Acunzi sono cambiati. L'altro nome caldo è quello di Muoio, che gestisce un'azienda modello in regione, tanto da essere riuscito ad ottenere il primo contratto di espansione in una società pubblica campana. Un profilo quello del manager che attirò pure l'attenzione del sindaco del comune capoluogo, Vincenzo Napoli, prima della nomina di Vincenzo Bennett, a capo di Salerno Pulita. Muoio rifiutò e ha fatto lo stesso anche con un'importante azienda dell'agronocerino. Difficile che lasci Meteglia per Alba, ma Francese e Chiera vogliono provarci lo stesso.